avete mai sentito parlare della crema anamidata? è da tanto tempo che non preparo un dolce perché appunto come potete vedere ho perso la bellezza di 16 chili sono stato a dieta per qualche mese e non ho preparato niente niente di buono però oggi ho deciso di preparare con voi una bella crostata moderna con frolla alla nocciola e crema anamidata al cioccolato bianco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il termine anamidata significa ultra soffice, molto morbida, proprio una nuvola è una crema buonissima, particolarissima, come dicevo poco fa si prepara in pochissimi minuti l'unica nota dolente è lungo tempo di riposo in frigo perché ci vogliono molte ore quindi in questo modo si otterrà poi una crema molto soffice, lucida e ideale per le decorazioni con la sac a poche veramente fantastica grazie a tutti 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 grazie a tutti